Sono in particolare chef e personale di cucina le figure che ad oggi continuano a mancare negli stabilimenti della Costa Ravennate, come ha ricordato il presidente della cooperativa Spiagge di Ravenna, Maurizio Rostignoli. Ormai è diventato purtroppo un problema consolidato, anche quest'anno comunque ci troviamo in questa stagione che manca circa il 25% del personale, c'è stato un assestamento dopo Pasqua dove comunque si sono avvicinate altre figure nel nostro sistema balneare che sono state integrate, la situazione quindi è leggermente migliorata rispetto a 10 o 15 giorni fa, ma il problema ormai è consolidato. In particolare sono sempre di più gli stranieri che chiedono di essere assunti, ma spesso a Monte manca un'integrazione ed è per questo che Rostignoli, pensando agli anni a venire, ha proposto un percorso di formazione da realizzare con altri attori del territorio. C'è un'offerta di lavoro, ahimè, di persone che vengono da paesi lontani, insomma non vicino a noi, ma che si avvicinano a cercare lavoro con una scarsa conoscenza della lingua, a volte praticamente nulla e con una professionalità uguale a zero. Su questo io penso che noi, le associazioni di categoria, gli enti di formazione, io dico anche i sindacati che sono comunque un interlocutore importante, ma le istituzioni ancora di più a livello regionale e nazionale, dobbiamo riuscire a creare un percorso vero, consolidato, dove queste persone arrivano sul nostro territorio, devono essere integrate, quindi dobbiamo iniziare subito a, io penso, dargli la possibilità di conoscere innanzitutto la nostra lingua e un minimo di formazione.